Il 19 giugno, nella piazzetta del monumento ai caduti per la libertà, è stata inaugurata una targa realizzata da Maurizio Bonansea in memoria di tutti i migranti. All'incontro hanno preso parte diverse autorità. L'iniziativa è nata dal gruppo Amicizia Islamocristiana, con la collaborazione dell'ufficio missionario diocesano, in occasione della giornata mondiale del profugo. Desideriamo commemorare tutti coloro che ieri ed oggi hanno perduto la loro vita inseguendo un sogno di futuro migliore. Ancora oggi la migrazione non è considerata ancora come uno strumento strutturale della nostra società. La nostra è una società globalizzata, almeno per quel che riguarda le merci, vero? Certo, il migrante è considerato utile quando lavora, ma diventa scomodo, magari anche destabilizzante, quando reclama i diritti minimi. E la cronaca di queste ultime ore ci dice qualche cosa di estremamente importante, a solo volerlo vedere. Dunque, la tentazione è sempre quella di mettere dietro il migrante, bianco o nero che sia, di considerarlo diverso rispetto ai nostri avi che hanno lasciato queste terre. In realtà, invece, sia questi sia quelli sono accomunati dal comune desiderio di ricerca di una vita migliore. E come lo sappiamo noi con le nostre famiglie, con le tante famiglie migrate anche all'interno del nostro stesso paese, dal sud e dalle isole. Vogliamo dunque in questa occasione sentirci uniti nella comune umanità, al di là del tempo, dei luoghi e degli stessi prefissi. smettiamolo di parlare di immigrati, di emigrati, ma parliamo di migranti, perché noi siamo stati e siamo ancora oggi un popolo di migranti. Pensavo, ho pensato tante volte, ma ci stavo pensando adesso in questa iniziativa. Noi siamo abituati ogni tanto a guardare la televisione, a andare a vedere un film. Quando guardi la televisione ti emozioni, sovente ti emozioni. Quando guardi la partita di calcio in questi tempi e segna la nazionale ti emozioni, ti alzi in piedi, esulti. O quando guardi un film triste o tragico ti emozioni, magari anche piangi o perlomeno alla fine del film hai gli occhi gonfi. Ma poi sai di non essere in quella storia. Tu non sei nel campo da gioco, tu non sei in quel film, non sei in quella storia. Quella storia è un'altra storia, è da un'altra parte, è una questione di altri, soprattutto quando si tratta di un film. Questo significa essere degli spettatori. Il grosso problema è che a volte diventiamo spettatori anche rispetto alla storia attuale. A volte ci emozioniamo di fronte a certe notizie, in particolare di fronte alle notizie dei morti nel Mediterraneo. Ci emozioniamo e poi spegniamo e torniamo la nostra vita come se fosse un film. Questa lapide, questa pietra servirà a dire che quella storia è piantata anche nella nostra storia, assolutamente. È piantata qui, noi pinerolesi. Quella storia ci riguarda. È parte della nostra storia e non possiamo fare di spettatori. E dunque io ringrazio davvero di cuore chi ha voluto questa lapide perché abbiamo bisogno di aiutarci a sentire che quella non è un'altra storia, che non è neppure semplicemente un film. È parte della nostra storia e noi ne siamo responsabili. Noi ne siamo responsabili. E dobbiamo tenere gli occhi aperti. Penso che a questo servano le lapide. Ogni tanto ad aprire gli occhi. Quando uno ci passa e dice, ah già, mi ero un po' addormentato. Avevo chiuso gli occhi, avevo fatto finta di non vedere. Ah già, è vero. Abbiamo una parabola molto bella per chi è credente nel nostro Vangelo che dice questo. La differenza la fa se sai tenere gli occhi aperti o chiusi. È la parabola del buon samaritano. Un tale scendeva da Gerusalemme a Gerico, incappò nei briganti che lo lasciarono mezzo morto. Passarono lì due persone, ma videro, per modo di dire, ma non sembrava una loro storia e proseguirono. Passò invece un samaritano, uno straniero, vide che quel tale aveva bisogno, scende da cavallo, lo aiuta, lo cura. Quella fa la differenza. Quello fa la differenza. Avere occhi abbastanza per accorgerti che l'altro ha bisogno e diventare suo prossimo. Ci auguriamo che davvero questa lapide ce lo ricordi ogni giorno, perché noi possiamo essere e sentirci responsabili e non essere solo spettatori. Grazie. Il nostro territorio è un territorio che storicamente ha visto il dialogo delle religioni come quasi un fondamento culturale, la presenza dei valdesi. Quindi da sempre su questo territorio le religioni dialogano, le fedi diverse hanno imparato a dialogare, hanno imparato a mescolarsi. Oggi questo dialogo si amplia, si amplia con le nuove fedi che arrivano e nascono questi gruppi, nascono i gruppi di amicizia che creano poi alla fine quel substrato mi viene da dire culturale che ha permesso soprattutto in questi anni poi di creare quella rete fenomenale e straordinaria che abbiamo creato sul territorio di accoglienza e di solidarietà. Ho sempre considerato le immigrazioni come un po' come se fosse l'acqua, un fiume che scorre, no? Un fiume che scorre diventa difficile fermarlo, cioè devi innalzare muri sempre più grandi, sempre più grandi e prima o poi l'acqua ti esce, ti scatta. Ecco, un fenomeno quasi naturale, no? Se c'è acqua e se c'è pendenza l'acqua viene giù. Così le migrazioni, i popoli sono sempre mossi. Ieri ho partecipato, ieri pomeriggio, a un'iniziativa molto interessante a Torre Pellici, organizzata da Ripartiamo Insieme e dalla Diaconia Valdese, in cui sono state raccontate delle storie di integrazione, rese possibile da quelli che erano i progetti Sprar, no? Che qualcuno diceva che non funzionavano, che erano da abolire. Ecco, invece ci sono decine e decine e decine di storie di integrazioni, di persone che sono arrivate qua e non avevano niente e adesso si sono fatte famiglie, sono autonome, grazie a questo tipo di progettazione. Un po' come l'acqua, noi non possiamo fermarle, ci saranno sempre, la politica è una grandissima responsabilità in questa situazione qua, si deve prendere la responsabilità di governare un fenomeno, perché se un fenomeno non lo si governa, lo si lascia libero, allora poi capitano le situazioni d'emergenza e come in tutte le situazioni d'emergenza poi bisogna intervenire con soluzioni che probabilmente tante volte lasciano un po' il tempo che trovano. Finché la politica non si prende la responsabilità di governare il fenomeno, avremo sempre situazioni di emergenza, è la responsabilità che ci dobbiamo prendere, c'è il metodo, ce l'abbiamo lo strumento per governare questo fenomeno, questo strumento si chiama corridoi umanitari, il nostro territorio ha sperimentato questo tipo di soluzione, ovvero le persone si vanno a prendere lì, si selezionano lì, si caricano su un aereo e si portano in Italia e in Italia c'è una rete di accoglienza come quello che il territorio del Pino Rolese ha offerto in questi anni in grado di inserirle e in grado di renderle autonome e questo è l'unico modo che noi abbiamo per governare il fenomeno. Finché la politica non si prende questa responsabilità e non inizia ad avere una parte attiva nel percorso, allora noi avremo sempre situazioni d'emergenza e tragedie in mare come quella che oggi ricordiamo. Così come già stato ricordato dal sindaco di Pinerolo, i comuni piemontesi in quel periodo hanno dato prova non solo di grande sensibilità ma anche di grande lungimiranza rispetto a un tema così delicato che ci coinvolge tutti perché i numeri del rapporto dell'UNHCR a cui ha fatto riferimento Giorgio sono numeri drammatici, segnano un più 4% rispetto all'anno scorso, più di 82 milioni di persone sono in giro per il mondo che fuggono da conflitti. Allora questo non è un tema che possiamo declinare come se fosse un problema di qualcun altro, è un problema anche nostro perché quelle migrazioni hanno conseguenze dirette anche sulla vita quotidiana di ognuno di noi ed è giusto che ognuno di noi se ne faccia carico quota a parte. I comuni questo l'hanno fatto, i sindaci l'hanno fatto negli anni passati finché questo è stato possibile attraverso tante modalità. Ieri abbiamo con Anci Piemonte, io sono ancora presidente della consulta politica europea e cooperazione decentrata, abbiamo fatto un bel seminario e abbiamo evidenziato le buone pratiche dei comuni piemontesi rispetto alla cooperazione decentrata e abbiamo investito tanti soldi sulla cooperazione decentrata per esempio attraverso l'attività che la nostra società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato svolge e quindi nel trasferimento tecnologico. Molti paesi africani, molte popolazioni non hanno accesso all'acqua potabile e SMAT la nostra società con i finanziamenti che sono arrivati dalla vostra bolletta che tutti pagati, una percentuale piccola che però moltiplicata per le tante bollette della provincia di Torino genera qualche risorsa importante, SMAT ha trasferito le proprie competenze tecnologiche e è andata a bucare e a trovare i pozzi in certe aree dell'Africa investendo anche in innovazione tecnologica in quelle aree così complicate e anche così difficili dal punto di vista della qualità della vita come potete immaginare. Le riflessioni come quelle di oggi servano a darci quell'obiettivo che ha ben raccontato Monsignor Vescovo, che ha ben definito Monsignor Vescovo, un obiettivo che credo poi molto semplicemente Papa Francesco ci ha richiamato nella sua terza enciclica, Fratelli Tutti, quando ci dice che ci ricorda e ci fa aprire gli occhi sul fatto che in questa terra è il mondo piccolo, sul fatto che qui nessuno si salva da solo. Allora o la impostiamo, questo approccio al fenomeno delle migrazioni, lo impostiamo consapevoli che nessuno si salva da solo o se no questo piccolo mondo rischia di fare davvero una brutta fine. Io mi auguro che questa lapide e anche la sensibilità che tutti oggi che voi siete qui presenti rappresentate, tenti di evidenziare, di contaminare quelle belle esperienze che sono state dei sindaci piemontesi, che tanti sindaci piemontesi hanno generato su questo nostro territorio e delle quali noi dobbiamo essere assolutamente orgogliosi. Hassan, due parole solo per dire grazie. Dopodiché io avrò il piacere di consegnare a te per tutta la comunità Gidiano del Tu perché come succede tra fratelli, insomma non balliamo tanto alle distanze. Quindi sono due parole, ti senti di dirle? Sono due parole. Prego. Buonasera a tutti. Assalamualaikum warahmatullahi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie al Pescovo e grazie a tutti. Io sono l'assalto della responsabilità della comunità islamica. Mi dispiace quello che ha fatto prima per le morte del mare, il nostro muslimano e anche i nostri cristiani. Grazie a tutti e buonasera a tutti. Un attimo solo, per fortesia, Maria Chiara. È una cosa simbolica, però Monsignor De Bernardi che è stato il Vescovo che ha preceduto il Monsignor Derio, ha inviato a noi dei libri, delle copie di un libro che ha scritto lui che si trova in Burkina Faso, si chiama Sentieri di Speranza. Sono stato pregato nel corso di questa cerimonia di offrire simbolicamente il libro, ma attraverso questo libro, appunto, invitare a continuare di percorrere questo sentiero di speranza. Ecco, quindi io do al nostro amico Assam per il Centro Culturale della Moschia, un libro Sentieri della Speranza, che in questo momento ci lega realmente a Monsignor De Bernardi che si trova in Burkina Faso. Visto che è un momento che parla di migranti, io stasera mi faccio voce di una comunità che proprio ha fatto questo percorso di migranti in Italia e almeno in questo territorio del Pinerolese. Volendo dirvi grazie per l'acquaglienza con cui ci avete ricevuto, ovviamente per noi è stato un po' molto più facile rispetto agli altri fratelli che arrivano da un altro continente, anche per la lingua, per la cultura, però non sempre facile. Questo è vero e mi auguro che pian pianino tutti quei sogni di ogni persona che fa il viaggio fuori del suo nido, del suo territorio, della sua casa, verso territori un po' più lontani, mi ricerca di trovare delle cose migliori rispetto a quelle con cui era abituato, di arrivare al loro traguardo. Io vi ringrazio per tutta l'acquaglienza che almeno alla nostra comunità rumena avete dato e vi assicuro che è una cosa che tutta la comunità è grata. Grazie mille. Qui testimoniamo un pezzo di una comunità nuova che sta sorgendo qui a Pinerolese. Ognuno è portatrice di idee, di valori, di passioni, di sogni. Perché quello che noi abbiamo bisogno in questo Paese è di sogni, cioè di riuscire a immaginare quello che sarà non solo il nostro futuro, ma il futuro soprattutto dei nostri figli e delle nostre figlie. Una società colorata, ben sapendo che le sfide che stanno di fronte a questo sogno sono ancora numerose, ma una comunità come questa è posta la salvaguardia di questo futuro. Perché noi apparteniamo tutti a una comunità che in qualche momento della sua storia è stata una comunità migrante. Nessuno è mai stato stabile in un posto. Noi siamo stati migranti per motivi economici, non tanto tempo fa. E dunque ciascuno di noi ha famiglie, pezzi di famiglia che sono dispersi nel mondo. Pensiamo all'America del nord, pensiamo all'America del sud, pensiamo alle tante e tanti italiani che hanno portato con il loro ingegno, usiamo ancora questa categoria secondo me un po' consumata, con il loro ingegno hanno portato ricchezza ad altri paesi. Io credo che le sorelle e i fratelli che noi accogliamo che vengono dal sud del mondo o dall'est del mondo o dall'ovest del mondo rappresentano per noi quella stessa ricchezza, quella stessa capacità di rinnovare un paese vecchio e ammalato come il nostro. Si è fatto ormai il mio cuore capace di ogni forma, delle gazelle con un pascolo. Ed è convinto ai monaci cristiani si fa il tempio degli idoli, le cabba ai pellegrini, la vola di Torah e il libro del Corano. Segue la religione dell'amore in qualunque religione, mi conduncano i cammeli d'amore, là si trovano la mia credenza e la mia religione. un'immata d'amore in qualunque religione. Grazie a tutti.